Avvici per la pelle sul teleschermo blu, benvenuti ad una nuova puntata del TG Comics, quest'oggi di giovedì perché dopo la festa della Repubblica del 2 giugno e dopo il ritardo dell'uscita di alcuni titoli molto attesi per il lancio della Panini DC, siamo finalmente pronti con tutti quanti i protagonisti al loro posto. Ebbene sì perché questo, chiamiamolo cofanetto, questo mega combone con Batman e Superman numero 1 è arrivato soltanto questa mattina insieme agli spillati divisi sia di Batman che di Superman, quindi è stato un lancio, come dire, dilazionato, un po' con la scia. Eccolo qua, si comincia proprio da qui, Batman 1 con cover di Libermeco e Superman 1 con cover di Gabriele Dellotto. Entrambi gli albi sono venduti anche singolarmente, ve li vado a far vedere, eccolo qui, Batman numero 1 a 5 euro e, scusate ma ho preparato tutto quanto in ordine, Superman numero 1, anche lui, al prezzo di 5 euro. Andiamo a vedere un attimo l'albo nel dettaglio, qui ci sono storie di King, Daniel e Gerards, la mossa di Bane, ragazzi. La città di Bane parte 1 e la città di Bane parte 2 sono le storie contenute all'interno, una di settembre e una di ottobre 2019, che comincia proprio così, con scritto semplicemente dopo. Eccolo qua, l'albo si presenta molto bene, qualità direi notevole, è bella anche la consistenza, è bella cover, non gli si può dire nulla, questo è un pochino del contenuto. Eccolo qua, quindi se volete accavarrarvi il numero 1 della nuova era di Batman in Italia, è a vostra esposizione. Mentre questo è il Superman, che vi dicevamo, con la cover di Gabriele, 5 euro. Il titolo è Doni, storie di Bendis e Kudransky, due storie con un altro nome e Doni appunto, da Action Comics 1012, Action Comics 1013, una di giugno e una di luglio 2019, quindi un pelino prima, e ecco qui il contenuto di questo albo, però voi so cosa state aspettando, io lo so cosa state aspettando. Allora riponiamo un attimo questi albi con il pack. Allora, c'è stato un martellamento molto vago, e tutti quanti aspettavate la Museum Edition, eccola qua, quella senza scrittone, cartoncino, sbiruliculinato, eccolo qua, molto molto bella. Allora, la cover di Libermeco, con il Duomo e Torre Irlandina di Modena, la casa, diciamo, della Panini, e questo è il retro. E voilà. Lo stesso andremo a vedere poi per Superman. Ma, ma, ci sono un altro paio di albi che hanno corredato questo lancio, e abbiamo le famose Alfa, eccola qua, l'Alfa Blue Edition e l'Alfa Gold Edition. L'Alfa Blue Edition costa 6€ e la Gold Edition costa 10€, con cover di Carmine e di Giandomenico. E questi erano quegli albi che avevamo presentato proprio subito, subito, subito all'epoca, che contiene un tot di storie iconiche di Batman, le origini, eccetera, eccetera, eccetera. In particolar modo, quest'albo di Batman contiene il caso del Sindacato dei Chimici, del maggio del 1939, Detective Comics numero 27, la leggenda di Batman, chi è Batman, queste sono le sue origini, da Batman numero 1 del marzo del 1940, Poi abbiamo Motivazioni, da Batman 604 dell'agosto 2002, e La Bella Gente, The Beautiful People, che ricordiamo non è stato scritto da Marilyn Manson, da Detective Comics 821 del settembre 2006. Ed è giusto vedere un po' dell'interno anche di questo albo. E voilà. Quindi, ricapitolando, la Blue e la Gold Edition, ve lo faccio rivedere. Eccole qua. Però, nel passaggio da un editore all'altro, c'è stato un buco, perché, ricordiamo che Batman si è fermato con il 72 dell'epoca RV Lion, c'è un buco di storie, tra lì e il Batman numero 1, che vengono recuperate con i DC Connect, e questo è il DC Connect di Batman, eccolo qui, prezzo 13€, se il Cavaliere Oscuro cade, Gotham è spacciata, e questo appunto viene presentato come il countdown all'inizio della nuova era DC Story, Tom King, Michael Janine e Jorge Fornes. E all'interno, vediamo quante storie ci sono, sono 1, 2, 3, 4, 5 storie, la caduta e il caduto parte 1, 2, 3, 4, e la caduta e il caduto conclusione, che vanno da luglio a settembre 2019. E questo è il contenuto. del DC Connect, dedicato al pv-strellone. Eccolo qua. Concluso l'argomento Batman per il momento, anzi no, forse possiamo proseguire, facciamo tutto quanto Batman. Abbiamo, visto il successo con i protagonisti dell'universo Marvel, dei Marvel integrali, abbiamo anche il DC integrale, giustamente, eccolo qui, definito DC Best Seller, dedicato a Batman, con l'arco, uno dei più famosi degli ultimi anni, di Snyder e Capullo, esatto, la corte di Gufi dovrebbe essere, prezzo 4,90 euro, pubblicazione mensile, eccolo qua, e qui è un ottimo starting point per chi si volesse avvicinare al mondo di Batman. Guardate che spettacolo, vi dico anche il numero di storie contenute all'interno, sono ben 4 storie. il trucco del coltello, lasciarsi cadere, la tredicesima ora, contro la corte, parte 1, che vanno dal novembre al febbraio, novembre del 2011 al febbraio 2012, eccolo qua, questo sicuramente sarà, veramente un best seller, è sempre venduto prima, e sicuramente si venderà anche adesso. Poi, recentissimo, recentissimo, una delle ultime cose pubblicate da R.V. Lion, è questo Batman qua, dove troviamo ancora Scott Snyder e ancora Greg Capullo, con l'ultimo cavaliere sulla terra, che R.V. Lion aveva pubblicato in tre albi, qui è raccolto tutto quanto in un unico cartonato al prezzo di 22 euro, e contiene tutti quei tre albi, The Last Night on Earth del 2019. Quando si risveglia nell'infermeria dell'Arkham Asylum, Bruce Wayne scopre di non essere mai stato Batman, mentre cerca di capire che cosa sia successo alla propria vita, il nuovo cavaliere oscuro deve confrontarsi con un altro mistero. Quale rovina ha devastato l'universo DC? Aiutato da un improbabile alleato, Batman dovrà combattere i criminali del proprio passato e infine affrontare la minaccia dell'apparentemente imbattibile Omega. E come dicevamo, Snyder è Capullo, che andiamo ad ammirare proprio in questo momento. E poi prepariamoci ad essere veramente bombardati da una marea di uscite di Batman. E poi c'è anche Batman e gli Outsiders. Altro cartonato, il titolo è Divinità Minori, Hill e Soi, prezzo 17 euro e contiene praticamente sei storie da Batman e gli Outsiders del 2019. Eccolo qua, il ritorno di uno dei gruppi storici della DC. Se la crociata contro il male porta Batman in territori ambigui, il crociato incappucciato può sempre contare su Jefferson Pierce, noto anche come Black Lightning, supereroe di grande integrità, a capo di uno straordinario gruppo, gli Outsiders. Sofia Barrera, discendente da una famiglia che Batman aveva protetto dopo i terribili esperimenti subiti anni prima, è braccata da un misterioso segugio al soldo di qualcuno con pochi scrupoli e molti mezzi. Quando la ragazza rivela sorprendenti superpoteri, Batman affida la missione di salvarla agli Outsiders. Ma cos'è che nasconde il Cavaliere Oscuro? Question mark. Punto interrogativo. E questo è il volume in questione. che devo dire sembra molto molto interessante e via, così. Poi nel pack avevamo visto Superman e giustamente abbiamo visto lo spillatino. Facciamo il percorso inverso in questo caso. Ecco il DC Connect di Superman. Prezzo 13 euro. Anche questo con storia di Bendis poi abbiamo Reis e David Lafuente. l'incredibile conclusione della saga dell'unità ci sono all'interno la bellezza di 5 storie. Anche qui la saga dell'unità parte 6, 7 conclusione parte 1, parte 2 e poi Superman e i Super Sons e andiamo dall'agosto del 2019 al dicembre del 2019. E questo è il contenuto. Bene, non posso cercherla proprio arrabbiatissima. ecco qui questo è il DC Connect di Superman poi ci andiamo a vedere i due Alpha eccolo qua si vedono la versione blu sempre a 6 euro e la versione gold sempre a 10 con la cover di Giuseppe Camuncoli che come avevo scritto un po' di tempo fa mi ricordava un pochettino un un team sale dannata e questo albo contiene Superman campione degli oppressi da Action Comics numero 1 del giugno 1938 deve esserci un Superman must there be a Superman da Superman 247 del gennaio del 1972 e più veloce da All Star Superman numero 1 del novembre 2005 che appunto vede ai testi un certo Grant Morrison vediamo che sta così da qua ti è godipopolo vediamoci anche qualcosa un po' più vintage ecco qui e questi sono gli Alpha di Superman ma ma sempre tornando all'edizione più attesa ecco la Museum Edition del numero 1 con il nostro azzurrone e il colosseo sullo sfondo disegnata da Gabriele Dellotto bella 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 non ci fermiamo qui perché c'è un altro numero 1 e riguarda il nostro Flash eccolo qua esordisce anche la sua testata il prezzo è 5 euro il ritorno dei nemici Williamson Sandoval Tarragona e Moray all'interno due storie la morte e la forza della velocità parte 1 la morte e la forza della velocità parte 2 di ottobre e novembre 2019 ed ecco qua uno spaccato e anche per Flash c'è la Museum senza scrittine disegnata da Andrea Sorrentino e con protagonista il Vesuvio poi il Connect anche del Flescione un po' piccicciottello mi sembra il prezzo infatti sale a 15 euro e dentro abbiamo infatti una due tre quattro cinque sei sette otto storie di Williamson Porter Collins e Deuce abbiamo anno 1 capitolo 1 2 3 4 5 6 poi abbiamo oggi e l'offerta e spaziamo dal maggio a luglio del 2019 eccolo qua sì esatto più 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 no 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 arriviamo a luglio del 2019 ecco tutto è qua un botto di roba per questo Connect di Flash infatti uno di quelli che sta andando proprio alla grunge mi diceva Zio Andrea poi eccole qui anche le Alpha adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro cover di Jacopo Camagni Gold 10 euro e Blue a 6 euro il contenuto di queste Alpha ci sono tre storie il mistero del fulmine umano da showcase numero 4 del settembre del 56 nessuno muore da Flash numero 54 del settembre 91 e corsa nel passato da Flash Secret Files and Origins del maggio del 2010 eccolo qua il contenuto eh niente male eh bello 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 molto bello e poi e poi e poi non finisce qui non è uscito tutto quanto ma 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 c'è un altro grande protagonista dell'universo di sì e non poteva essere che lanterna verde number one lui esce a 3 euro Morrison ex hermanico la terra in pericolo una storia sotto il sole di mezzanotte del novembre 2019 eccolo qua e via così prima di questo albo ovviamente c'è il DC Connect sto saltando un po' di palo in frasca anche per rendere un po' più il tutto vivace questo costa 14 euro tre minacce inarrestabili 12 mondi paralleli 12 lanterne verde Morrison Sharp e camuncoli e ci sono uno due tre quattro cinque storiellone che vanno dal settembre al dicembre del 2019 eppure qui ce n'è di robetta da legge ragazzi eh hai voglia hai voglia quindi DC Connect prima del numero uno che appunto code anche lui della Museum Edition di Francesco Mattina a Torino la mole antonelliana e poi le queste sono quelle più difficili da decifrare e bisogna guardare l'interno qui la blu di lanterna e la gold del nostro Werther stesso discorso 6 euro la blu e 10 euro la gold cosa c'è dentro? allora abbiamo SOS Lanterna Verde da Showcase 22 dell'ottobre del 59 The Flash 237 del novembre del 75 The Flash 238 del dicembre del 75 The Flash 240 del marzo del 1976 e Green Lantern Secret Files and Origins del 2000 e 2005 del giugno del 2005 ecco sempre 6 euro per la blu 10 euro per la gold copertina di Mirk Andolfo il contenuto vede presentiamo Wonder Woman da All Star Comics 8 del dicembre del 41 il paradiso ritrovato da Wonder Woman numero 177 del febbraio del 2002 e in crespature da Wonder Woman numero 201 dell'aprile 2004 ed ecco qua il contenuto e voilà direi che per chiudere il cerchio prima di presentare un ultimo DC Connect che è arrivato direi di far vedere il cofanettone delle alfa eccolo qua dove trovate tutte quante le gold e le blue più però una litografia firmata al nostro Werther dell'Edera che se ricordate bene ce l'ha mostrata durante la live che abbiamo fatto in periodo di lockdown quindi se andate nel canale e andare a cercare i vecchi video c'è la live converter dove si parla di un sacco di cose e tra cui viene mostrata la bellissima litografia contenuta in questo cofanettone al prezzo di 89 euro devo dire che insomma la gente li chiede mi dice sempre Andrea Justice League eccolo qua l'ultimo Connect che è arrivato 18 euro per lui e quindi evidentemente dentro ci sono un botto di storie il preludio alla guerra giustizia destino Scott Snyder James Stinion IV Francis Manapullo Jorge Jimenez Javier Fernandez e la gente 1,2,3,4,5,6,7,8 9 storie la prima crisi fino al racconto al racconto di Jarro la guerra giustizia destino preludio ragazzi da aprile 2019 fino ad luglio agosto del 2019 ed ecco qua un po' del contenuto di tutte le storie un botto un botto di roba vedete quanto quanto è erto ma l'universo DC non si ferma qui a questo giro perché una parte dei diritti DC sono stati lasciati dell'editoriale Cosmo e qualche altra cosa dell'editoriale Alcastoro credo che ha pubblicato il libro su Harley Quinn il volumetto su Harley Quinn e qui abbiamo lo showcase di Flash eccolo qua il velocista scarlatto di Sunroll City 34,90 euro eccolo qua oltre 500 pagine di fumetti ragazzi questo è un Puma Master copertina morbida ma Puma Master assolutamente vi faccio vedere sbrand ma l'altro sbrand eccolo qua lo showcase di Superman e anche qui 500 pagine di fumetti e passa 34,90 euro eccolo qua diciamo che ecco se volete cominciare l'universo di Sita questa settimana siete rovinati perché ce n'è di roba e chi è un amante dell'universo di Sita è rovinato comunque perché insomma sicuramente se li prenderà ma direi a questo punto di fare un piccolo salto anche nel mondo dei manga perché ci sono svariate cosine e poi ritornare un po' in ambito supereroistico allora vi faccio vedere un po' di fuori formato attenzione immancabile Osamu Tezka con cavi umane per la J-pop eccolo qua volume unico 14 euro ragazzi consumatore vorace di letteratura e cinema di genere fin dagli esordi della sua carriera Osamu Tezka affiancherà la realizzazione di serie lunghe quella di short stories in cui dare sfoco alle sue passioni nascono così racconti esplosivi sci-fi Western Atmosfera e Thriller all'ultimo respiro perfetti per sorprendere con idee originali e colpi di scena concentrati in poche pagine mostruosi esperimenti alieni rese di conti in famiglia complotti criminali e pozioni che svelano nel futuro sono solo alcuni dei topoi pulp che il dio dei manga utilizzano maestria per emozionare il lettore e perché no divertirsi con i suoi generi preferiti 14 euro per questo volume con sovracopera eccolo qua andiamo a chiudere e ci facciamo una sbirciadina dell'interno è riuscito a aprire con una pagina bianca ovviamente ma essendome ne accorto ve ne ho privata la vista poi abbiamo Ride Your Wave qui abbiamo il manga di Machi Kiyachi supervisione 2019 di Radio Render Film Partners ti avevo promesso che ti sarei stato vicino per sempre 12,90 euro di Neat Manga questo è il contenuto diciamo che la fattura mi sembra leggermente scesa rispetto diciamo rispetto alla linea showcase mi sembra un pelino più bassa però magari è diretta ad un altro tipo di pubblico e questo invece è il romanzo eccolo qua prezzo 18 euro ci hanno messo la pescetta perché forse era sbagliato il codice a barre eccolo qua di Mika Toyoda regia di Masaki Yuasa e sceneggiatura di Reiko Yoshida e questo è il libro è il libro 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 romanzo romanzo poi dopo tanto tempo ritorna finalmente Sayuki Reload numero 3 eccolo qua 9,90 euro sempre di Knit Manga di Kazuya Minecura Reload Blast poi scusatemi il silica perché me lo sono dimenticato tico 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 devo dire anche qui volume con sovracoperta e dentro questa sovracoperta e dentro ci sono anche dei bei colori che come sempre cerco di andare a farvi vedere sempre che io ci riesca tatatatà eh niente Mario ce ne sono altri no ci fermiamo qui però insomma vediamo un po' la presentazione bedu 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 poi Magic Press ci porta sempre qualcosa di peposo quindi io dovrò fare eh così l'otaku nelle 10.000 avanti Cristo prezzo 7,90 euro serie completa in tre volumi cosa posso farvi vedere assolutamente niente volume con sovracoperta e poi abbiamo micette mia 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 anche qui eh eh 9,90 euro sempre Magic Press imbustato eh con lana Black Magic ma poi abbiamo c'era anche il cofanetto qua attenzione c'era un cofanetto eh sì 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 abbiamo il cofanetto di Your Name Another Side Earthbound Original Story by Makoto Shinkai storia di Arata Kano e art di Junja Nakamura e questo è il volumetto invece singolo il box non ci riuscirò mai a leggere il prezzo perché c'è tutte le increspature della chiusura ma dovrebbe essere ci risaliamo se l'albo costa 6,50 euro dovrebbe essere 13 euro se non vado errato volumetti entrambi con sovracoperta e questo all'interno eccolo qua se riesco a trovare anche un po' di disegne e questo qui si dovrebbe appunto chiudere in due volumi 6,50 euro come vi dicevo ciascun albo e il cofanetto 13 poi abbiamo Ray Cyborg 009 il numero 2 eccolo qui cover molto figa 2 di 6 6,90 euro eccolo qua Original Story by Shotaro Shinomori che fa pure rima concept by Kenji Kamiyama e il manga di Gato Aso anche in questo caso sovracoperta fumettosissima colori dentro anche questo ve lo faccio vedere perché è molto figo e poi eccolo qua un manga veramente notevole ragazzi lasciato però dire vi potete tranquillamente avvicinare perché sembra molto 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 valido da Jpop forse c'ho qualche altra cosa Jpop per rimanere in tema assolutamente sì ce l'ho ce l'abbiamo Goblin Slayer numero 8 eccolo qui prezzo 6,50 euro anche in questo caso sovracoperta fumettosa e un po' di colori all'interno eccolo qua 6 molto molto apprezzata io ovviamente mi sono fermato credo al numero 3 poi 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 no questo sbagliato ma eccolo qua un altro Jpop Black Knight Parade number 3 prezzo 6,90 euro eccolo qui di Ikaru Makamura molto semplice di sotto sovracoperta colori anche a sto giro e questo è il contenuto e voilà poi magari troveremo sicuramente qualche altra cosa a Jpop ma al momento mi sfugge per la Planet Manga invece è uscito The Killer Inside number 1 volumetto da 7 euro la risposta in un thriller d'autore psicologico e violento a che cosa? è uno studente universitario come tanti Eiji Uraschima vuole solo godersi la vita senza troppe preoccupazioni misteriose amnesie però lo costringono ad affrontare ciò che da sempre rimuove e cosa c'è di più pericoloso di quello che nascondiamo perfino a noi stessi? è appunto la risposta in un thriller d'autore psicologico e il Bylaws 7 euro storia originale di Ajime Inoryu e manga di Shota Ito sovraccopertinito diverso e vediamo un po' del contenuto disegni molto molto belli vi devo dire mi piace mi piace mi piace niente niente male bello abbiamo detto planet manga e poi andiamo a fare un giretto di star ragazzi perché abbiamo novità dei novità barrage eccolo qua 4 euro e 50 number one di Koei Horikoshi dopo l'arrivo di alieni malvagi il pianeta industria ha visto venire meno la pace e l'autorità del casato reale che lo governava tanto da essere riconosciuto come il mondo della guerra planetaria un giorno il giovane astro povero ma molto legato alla famiglia si imbatte in un misterioso ragazzo identico a lui eccolo qui volume classicissimo star comics 4 euro e 50 questo è il contenuto e via poi per gli amanti degli anime i cartoni di un tempo eccolo qua Renzi la strega Tokimeki Tonight numero 5 prezzo 5 euro e 90 sempre mamma star sovracoperta bel tank ma veramente delizioso deli delizioso bello 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 ci gusta attesissimo bombardandendissimo one piece numero 94 non ha più bisogno di presentazioni 4 euro e 30 come ormai non ha più bisogno di presentazioni neanche The Seven Deadly Saints numero 35 eccolo qua anche lui 4 euro e 30 veramente veramente due grandi best seller di casa star comics ributtiamocene qua un paio di supereroi abbiamo Daredevil numero 12 ovvero 105 della vecchia numerazione dove troviamo la coppia Zarsky checchetto che era ritornato già dal numero scorso ovviamente invito tutti quanti a leggersi questa run veramente da paura con quanto non riesco a sfogliare le pagine prezzo 3 euro mentre al 5 euro abbiamo Marauders number 3 eccolo qui Duggan Lolly Wernick e Blee all'interno due storiellone mentre su Devil ovviamente una ecco qua Marauders serie mutanti che vanno lagranti veramente devo dire quasi come le mie battute poi sempre per panini Giulio Magaglione ci porta Fagansakura eccolo qua 15 euro una coppia giunta al capolinea si lascia durante il volo che li sta conducendo in vacanza in Giappone Jose è pazzo di anime videogiochi e sogna il viaggio della sua vita nella terra del sollevante Chloe è un influencer schiava del suo cellulare che in Giappone nemmeno ci sarebbe voluta andare insieme ma divisi si ritroveranno faccia a faccia con se stessi a fare i conti con la propria vita e con gli errori commessi sotto a dei maledetti petali di cilieggio just like honey eccolo qua numero 76 3 euro per zio leo ortolani faccio vedere proprio perché proprio dai dai faccio proprio vedere che voglio bene poi non è finita qui rimaniamo in tema supereroi qui ragazzi black widow volumazzone bello pesante 30 euro ci sono 12 numeri della serie black widow del 2016 dall'1 al 12 sta tutto qua dentro cosa succede quando i segreti di una spia vengono svelati abbiamo mark wade e chris samney ma che ve devo di anche in questo caso la rima c'è e stacce super ultra mega accoppiata per veramente un bombardonissimo di storie eh sì sì un botto un botto di storie botto più o meno come quello che sta per far la pila qua accanto dei fumetti ancora super heroes marble masterworks i vendicatori eccolo qua cartonatissimo 25 euro gli emangers dal 101 al 111 più daredevil numero 99 e amo sempre farvi vedere un po' di cover eccole qua beddu 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 sempre per panini poi c'è un altro cartonato di un eroe molto amato o assai amato abbiamo Hulk e anche qui troviamo Peter David all'apice proprio futuro imperfetto Peter David Georg Perez Gary Frank ragazzi che storie qua dentro troviamo Future Imperfect del 92 1 e 2 sì The Incredible Hulk dal 417 al 419 e l'anno al numero 20 e questa è una delle cover più iconiche della storia moderna di Hulk eccolo qua il matrimonio di Doc Samson e qua l'Hulk col capello rasatissimo che poi è arrivato è tornato di moda adesso praticamente Hulk già ce l'aveva e molto 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 bello ragazzi veramente che storie che storie con la S maiuscola fantastico fantastico che bomba bellissimo poi abbiamo 2099 alpha sempre panini eccolo qua e contiene 2099 alpha numero 1 fantastic 4 2099 1 Conan 2099 1 panicero 2099 1 non siete fan dell'universo 2099 buona notizia questo è un nuovo futuro 14 oretti il 2099 è in pericolo e sta cambiando c'è un botto di gente Spencer Duggan Bogdanovich Horak il futuro è adesso e spizziamoci qualche cosina eh ma non è stato mai dimenticato il 2099 un po' di alti un po' di bassi non è mai stato dimenticato il secondo volume degli invaders se non ricordo male eh sì il secondo volume degli invaders che contiene le storie dal 7 al 12 17 euro atlantide contro il mondo di superficie Zavsky Magno e Gais Magno io ho magnato tanto colpiti e affondati ragazzi Capitan America Namor e Winter Soldier eccoli qua all'interno di queste pagine ciucci per voi great sensations great great sensations cartonatissimo bellissimo blindatissimo ma se vogliamo parlare di cartonati insieme alla parola Puma Master e questo fa al caso vostro perché abbiamo il terzo volume di Conan il Barbaro l'era Marvel and this is a real Puma Master guys 79 euro contiene Conan The Barbarian 52 83 l'anno al 2 e 3 materiali da Giant Size 5 Power Records 31 Fum 14 guardate che botto The Cover una marea embustated cellophonated ve lo leggete se ve lo comprated perché sennò nada un autore clamoroso Paco Roca insieme a Guillermo Corralli il tesoro del Cigno Nero per edizioni Tunue il prezzo 19 euro e 90 maggio 2007 la principale società al mondo di recupero tesori cattura l'attenzione dell'opinione pubblica annunciando la scoperta nelle acque dell'Atlantico del più grande tesoro sottomarino mai trovato stando le limitate informazioni diffuse dalla compagnia il rinvenimento si riferisce a una nave misteriosa il Cigno Nero tuttavia ci sono indizi che inducono a pensare si tratti in realtà di un vascello spagnolo comincia così un affascinante intreccio legale e politico le cui radici si ricollegano a fatti accaduti due secoli prima con il tesoro del Cigno Nero Paco Roca costruisce a partire dalla vera storia del diplomatico scrittore Guillermo Corrall un graphic novel coinvolgente che immerge il lettore in un avventuroso racconto di intrighi internazionali quindi il buon Paco prende spunto dalle storie di Guillermo Corrall e qui abbiamo lo stile ormai incommuntibile di Paco e poi Paco è il diminutivo di Francisco o sbaglio non mi ricordo bene poi 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 oh arriva la Bao Miau con Isola che dovrebbe essere una pubblicazione Image in America un soldato e una tigre legati da un destino che ancora non conoscono stanno scappando da qualcosa o verso qualcosa ben più del destino del regno di Mar dipende da questa sottile distinzione e solo l'antico misterioso popolo dei Moro sembra sapere cosa stia succedendo ma come tutte le anime dei dipartiti inevitabilmente si ritrovano a Isola così la rotta del viaggio di Rook e Holwin è già decisa ma loro non lo sanno è bello anche la back cover Brenda Fletcher Carl Kershaw andiamoci a spizzare questo primo volume intrigantissimo eccolo qua molto molto bello ho sempre avuto cover fichissime pure su Twitter e Instagram ne vedevo di belle e sempre per la BAU abbiamo Laura Dean continua a lasciarmi eccolo qua abbastanza compatto mini pumammino eccolo qua 21 euro Mariko Tamaki Rosemary Valero Connell leggiamoci qualche cosa a volte quello che vuoi non è precisamente ciò di cui hai bisogno e non importa quante volte te lo dicano gli altri lo devi capire da te per accettarlo tutto quello che Freddie Riley vuole è che Laura Dean la smetta di lasciarla ma è veramente la cosa giusta per lei? punto interrogativo Mariko Tamaki ha già realizzato è pubblicato in Italia sempre per Rau e la chiamano estate mentre Rosemary Valero Connell ha lavorato per DC Boom Studios Copy Games e Mondo Tease tra gli altri i suoi lavori sono stati esposti dalla Society of Illustrators di New York e in altri paesi del mondo e vediamoci un po' dell'interno ammazza che figo ma è un tipo un mangone gigante bello bello guardiamo che figo bellissimo bomba questa sembra quasi a definire quasi la chicca della settimana eh sì 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 potrebbe essere la chicca della settimana ma oddio tutta sta roba ragazzi mi sono perso qualcosa ho indubbiamente sovrapposto un po' di cose c'è ancora altra roba quindi questo lo faccio vedere dopo mi perdonerete vado a sottrarre questo a questo questo a questo e adesso il botto lo sentirete per forza ma siccome io sono un facocerone sono andato a fare confusione quindi io devo levare questo ma riportare alla vostra attenzione qualche altra tonnellata di manga mi pareva poco mi pareva poco e mi pareva strano gli bravi e a questo punto vi tiro subito la bombetta pum chuzo shimi tracce di sangue numero 6 sono rimasto al 4 ma non devo non posso lasciarlo anche perché mi si sta accumulando materiale perché la coin ha pubblicato dentro mari maledizione 7 euro assolutamente straconsigliato volume con sopra coperta ma che cosa vi devo dire io di questo dramma familiare bellissimo intensissimo cupissimo tesissimo cioè un bello bello un mammorbante morboso corposo oso poi planet manga star comics ci porta invece il manga di doraymon il film le avventure di nobita e dei cinque esploratori l'anime comics in realtà di storie originali di fujiko e fujiko eccolo qua sovraccopertinissimo il prezzissimo è 8 euro e novantissimo e queste sono le scene del film eh questo per mamma star comics poi ramu o la nostra lamu uruseyatsura numero 9 attenzione grandissimo bellissimo innamoratissimo mamma mia che eh rumiko takashi la star ha annunciato delle altre cose anche un bellissimo volume di short stories in uscita che era ottobre settembre però sulla pagina tg comics su facebook lo trovate sicuramente il prezzo detto 9,95 non me lo ricordo più poi sempre per star comics abbiamo di mairo accademia two heroes the movie eccolo qua prezzo 15 euro per questo romanso eccolo qua sono uno hero di passaggio venuto dal giappone dice lui dice lui dice lui noi come sempre ci crediamo vi dicevo dentro mari vi dicevo dentro mari eccolo qua per la goen shuzao shimi number 3 e vi devo dire a questo punto avendo fatto una produzione della goen è uscito anche il mega della rv lion e devo dire che praticamente la perdita dei diritti della della dc ha fatto bene alla goen perché la goen sta adesso uscendo in maniera molto 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 costante eccolo qua questo è il mega e poi magari un giorno ce lo spizzeremo e vedremo un po' tutte le produzioni perché perché appunto dentro mari è uscito a rotta di gollo 6 euro e 95 e sempre shuzao shimi non l'ho letto ma insomma vorrei proprio farlo visto che oshimi mi piace molto come autore poi ritorno però volevo levarmi questo volume eccolo qua perché flashbook c'è solo questo eccolo qui si chiama my lovely like a cat di haruko kumota prezzo 6 euro e 90 sovracopertinato e qui faccio vedere sempre questi graziosissimi colori molto molto belli e ce ne sono svariati a sto giro eh si 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 ecco a voi collana sempre la tb tb collana tb ok poi poi si prosegue a sto punto con tutta la carrellata della coin per poi finire con un altro giro di planet abbiamo il 33 di food wars prezzo 5 euro e 95 sovracopertinato oppure questo ormai dovreste conoscerlo molto molto bene poi a town where you live arriva il numero 26 prezzo 5 euro e 95 sovracopertinato anche lui tutti i sovracopertinati questi della sì tutti i sovracopertinati questi della coin carneval molto atteso il numero 11 prezzo 7 euro e 50 devo far vedere faccio vedere se fa calare così poi the clockwork world rock questo mi ero proprio scordato era uscito solo un numero adesso arriva il secondo prezzo 4 euro e 50 ragazzi per un albo comunque con sovracoperta 4 e 50 è un lusso vero non male suicide island numero 10 prezzo 5 euro e 95 bello tosto molto amato anche questa manga devo dire poi abbiamo c'è anche il palacio numero 7 era uscito il 6 subito poco dopo il lockdown se non sbaglio 4 euro e 95 e con intervista a the roman dynasty anche qui ci sono dei colori questo all'interno anche qui 4 euro e 95 un bel prezzo poi eccolo qua karakuri circus per tutti gli amati di kazuhiro fujita 5 euro e 95 e il numero 19 eccolo qua e poi si ritorna a planet manga con akamega kill inowaga crash 4 euro e 90 anche se si chiama proprio inowaga crash perché dico ho detto akamega kill perché comunque prosegue l'avventura di akamega kill comunque eccolo qua 4 euro e 90 per planet manga e poi bungo street odds amatissimo numero 18 prezzo 4 euro e 90 sempre planet manga 45 minuti ma ragazzi dai che ce la facciamo siamo quasi arrivati quasi arrivati alla fine vado a presentarvi allora per gli amanti delle serie tv abbiamo octoberfaction il nuovo volume che dovrebbe essere il 5 per magic press 14 euro sogni sovrannaturali la serie si trova su netflix abbiamo steve niles che tutti quanti ricorderanno per 30 giorni di notte se non sbaglio poi max and cherry ci portano questo atto carnale quello qua 12 euro sempre per magic press poi volumossone gigantone per la cosmo come l'altra settimana un botto di striscione questa volta rip kirby il detective più cool del mondo dei fumetti prezzo 44 euro per la cosmo books di alex raymond bellissimo andiamo a farvi vedere qualcosa non sono facili questo kind of fuma master orizzontale è tosto da farvi vedere guardate che belle la bellezza di queste strisce alex raymond un grandissimo bisognerebbe studiarlo tutti quelli che amano la nonna arte che hanno intenzione di dedicarsi al mondo del fumetto lo dovrebbero studiare e ristudiare poi l'evasione dei dalton per la nonna arte lucky luke con morris e gauchini il prezzo 14 euro e 90 eccolo qua cartonatello poi altra grande opera abbiamo per i vent'anni la coconino la nuova edizione cartonatissima di morti di sonno di davide reviati bellissimo prezzo 28 euro la vista si sdoppia mi sbilancio e fatico a non cadere poi non c'è più tempo lui è qui chiudo gli occhi e salto bellissimo anche questo è un po' ma master è erto really really erto ragazzi tutto da leggere e chiudiamo con un po' di bone lame con zagor le origini cartonatissimo gigantissimo 17 euro la prima impresa di un giovane eroe che ancora non è diventato zagortenai lo spirito con la scure molto molto bello il demone cannibale di moreno burattini e giuseppe candita vi faccio vedere l'interno perché è molto molto bello eh guardate che bel volume veramente veramente ne vale la pena ti è guardate che spettacolo fantastico ragazzi fantastico siamo arrivati alla soglia dei 50 minuti io vi ringrazio per la pazienza per avermi seguito fino a qui e vi ringrazio anche per tutti quanti i like perché questa volta veramente devo dire mi state dimostrando tanto 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 affetto condividete il video se volete scrivetemi info richieste nell'info box qua sotto sempre nell'info box qua sotto troverete i link per acquistare quello che avete visto nel video se non aveste una fumetteria nelle vicinanze oppure il link per comprare sempre dal forbidden planet sul manga comics market che non c'ha solo i manga ma c'ha tutti i fumetti perché noi carichiamo tutto quanto su quel portale e voi potrete richiedere appunto poi che vi venga spedito il materiale tutto quello che abbiamo non credo di dovervi dire altro se non di iscrivervi a tutte quelle che sono le pagine del tg comics sia su facebook che su instagram e quelle forbidden planet sempre su facebook che su instagram quella mia su instagram è luke seventeto e non tg comics per il resto direi che le battaglie sono tante vieni avanti volumone gigante e che cprimerlo vieni sempre su tutti voi ciao